Ecco come si presentava la sede della Croce Rossa di Cesena subito dopo la disastrosa alluvione in Romagna delle scorse settimane. La sede è andata distrutta e un'automedica, due ambulanze ed un pulmino sono stati travolti da acqua e fango e sono da buttare. E parte da Mantua per la precisione dalla titolare della discoteca Mascara Carmen Venerandi un'importante iniziativa di solidarietà. La sera del 28 giugno al Mascara si terrà una serata il cui ricavato andrà proprio alla Croce Rossa di Cesena. Il 28 giugno appunto qui a Mascara ci sarà una serata all'insegna della solidarietà chiamata appunto insieme per l'Emilia Romagna dove parteciperanno numerosi artisti provenienti soprattutto dall'Emilia Romagna e non solo anche artisti lombardi e veneti. Noi siamo appunto un locale di divertimento e durante l'anno ospitiamo queste orchestre quindi anche noi gestori ci siamo consentiti diciamo di fare questo gesto di fare un qualcosa a dimostrazione che si può regalare una bella serata di divertimento ma essere anche solidari diciamo in questa con un gesto concreto. Queste orchestre hanno subito veramente dei danni ingenti. Pensiamo che abbiamo artisti del calibro di Roberta Cappelletti che è fatto anche parte della della trasmissione del Voice Senior Omar Lambertini, Anna Maria Allegretti e tanti altri nomi importanti che provengono rispettivamente da zone come Faenza, Ravenna, Cesena, Cesenatico, Forlì. Quindi in quei giorni avevamo la testimonianza continua di quello che succedeva e abbiamo detto magari con questo piccolo gesto anche da parte nostra possiamo riuscire insomma a dare un segnale. Ovviamente noi abbiamo scelto di devolvere alla Croce Rossa italiana sezione di Cesena e ci sarà anche la presenza del presidente. Speriamo anche nella sensibilità insomma della nostra clientela che arrivi numerosa affinché riesca nel miglior modo possibile e per finire voglio nuovamente ringraziare la sensibilità di tutti questi artisti che si sono prodigati in prima persona e anche insomma a tutte le autorità che parteciperanno e anche voglio ringraziare anche sia il comune di Mantua che la provincia perché ci hanno supportato con i loro patrocini.